Ci troviamo a Sant'Erasmo con il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, con cui parleremo oggi un attimo dei suoi quartieri, dei quartieri che gestisce, sono tanti, sono Brancaccio, Ciaculli, Romagnolo, tutta la zona della stazione di Corso dei Mille, Sant'Erasmo, Lo Sperone, sono più di 80.000 abitanti, tra l'altro molti di questi quartieri presentano disagi sociali e criticità non indifferenti. Sì, diciamo che la circoscrizione non è omogenea in termini di tessuto sociale, di questo me ne sono accorto nell'ultimo progetto che ho avviato assieme alla consigliera Leto, che è giocando in democrazia, dove abbiamo eletto un mini sindaco per ogni scuola elementare e ci siamo accorti che ogni bambino portava dei problemi sociali diversi l'uno dall'altro, cioè Lo Sperone non è uguale a Ciaculli, Ciaculli non è uguale a Romagnolo, però viviamo dei disagi e dei problemi, bene o male un po' in tutta la circoscrizione, ma ci sono alcuni quartieri dove alcuni problemi vengono accentuati, come Allo Sperone, che può essere il problema dello spaccio o Brancaccio per quanto riguarda altri tipi di problemi, che però non nascondo che rispetto a circa dieci anni fa è un territorio che vuole cambiare, vuole aiuto per cambiare la situazione che in passato si è vissuto. Noi abbiamo ricordato ultimamente Padre Pino Puglisi, dove abbiamo visto che oggi la gente lo ricorda in maniera affettiva, mentre magari prima dieci anni fa, quindici anni fa magari la gente non scendeva da casa a ricordare questa maestosa figura. Iniziamo con la seconda circoscrizione, una rubrica che porteremo avanti nei prossimi giorni anche con le altre circoscrizioni per raccontare soprattutto il territorio. Parlavamo di disagi sociali, ma parliamo anche delle criticità, dei problemi veri di questa circoscrizione. Naturalmente i rifiuti, come tutta la gran parte della città, quindi problemi con i rifiuti, strade dissestate, soprattutto marciapiedi, potature non effettuate, illuminazione, soprattutto nella zona di via Messina Marine, che non è sufficiente, spesso vediamo che succedono incidenze anche piuttosto gravi, fino all'altra volta un uomo è morto mentre camminava con la bicicletta e soprattutto, visto che comunque gestisci quartieri come Romagnolo, Acqua dei Corsari, Sette Cannoli, tutti i prospicenti al mare, soprattutto il mare. Che punto siamo con la bonifica del mare e quando potremo riavere il mare a Palermo? Siamo che tutti questi disagi, tendenzialmente, oltre a vivere la seconda circoscrizione, li vive anche a gran parte della città. Se parliamo degli impianti di illuminazione, io sono convinto, se faccio un calcolo, che circa il 40% dei punti luce sono spenti. Tant'è vero che su via Messina Marina ci sono tratti totalmente spenti, tratti accesi ad alternanza e tratti illuminati. Io sono convinto, anche in un confronto che ho avuto con l'AMG... Da cosa dipende questa alternanza? Diciamo che l'alternanza è dovuta da guasti e da sovraccarichi, per cui l'azienda decide di fare l'alternanza. Sono guasti irreparabili? Sono guasti dove attendono gli investimenti da parte del comune o addirittura l'AMG è disposta ad attendere che vengano fatti un nuovo impianto di illuminazione. Però sono anni che questa illuminazione... Se parliamo su via Messina Marina, l'azienda mi dice che tecnicamente ancora esistono i cavi di carta. Io non sono un tecnico, ma i cavi di carta si mettono negli anni 60, ciò significa che appena si bagna un cavo si spegne tutta un'intera strada. Oggi è un disagio grave, perché la notte la via Messina Marina e alcune strade diventano quasi pista da Formula 1 e fino alla settimana scorsa un ragazzo nell'attraversare con la bicicletta è morto. Ritornando ad altri disagi... C'è un progetto per... C'è un progetto, sì. Insisto su questa cosa. C'è un progetto per ripararla? Sì, sul via Messina Marina c'è un progetto di un impianto nuovo. Io da quando mi sono insediato ho scoperto che circa 20 pali di illuminazione che va a illuminare un quartiere, non si sono accesi soltanto perché il Coime non ha fatto uno scavo di 8 metri lineari. Ci sono delle cose che sono assurde sentirle, cioè tenere spenti per 7 anni 120 pali di illuminazione perché non viene fatto lo scavo di 8 metri lineari per mettere il cavo. Ci sono cose che veramente vanno sull'assurdo, però piano piano, guardando anche il bilancio del Comune, i capitoli dove sono stati messi i soldi per quanto riguarda gli investimenti, ci auguriamo che nei prossimi anni possano iniziare i lavori per nuovi impianti di illuminazione. La questione dei rifiuti la conosciamo tutti? La rabbia delle difficoltà è un po' un problema comune a tutta la città. La stiamo vivendo proprio adesso il problema dei rifiuti, c'è un'avvertenza tra l'azienda e il Comune dove chiede l'azienda più soldi, naturalmente i mezzi guasti, poco personale, però oggi chi piange le conseguenze sono i cittadini e vedere oggi davanti alle scuole, davanti ai siti sensibili, cumuli di spazzatura non è certamente un bel da vedere. Mi auguro che si chiuda più presto questa avvertenza e che anche qui alla seconda circoscrizione possa essere avviato il servizio di porta a porta. Qui ancora esistono i cassonetti dove la gente abbandona di tutto, in qualsiasi orario, ma anche il controllo. L'amministrazione aveva annunciato anche diverse videocamere di sorveglianza e mi auguro che il più presto possibile possano essere messe in funzione in modo da segnalare e multare questi incivili che continuamente buttano rifiuti in tutte le ore del giorno e qualsiasi tipo di rifiuti. Io all'inizio della consigliatura ho fatto quel manifesto simpatico, indegno di chi abbandona i rifiuti, però non ha assortito quegli effetti che desideravo, perlomeno che la gente si poteva indignare, ma realmente se ne frega altamente. Sulla questione potatura, stessa strada dei rifiuti, ci sono comunque delle difficoltà? Con tutto l'impegno che sta mettendo l'assessore Minè con tutto l'impegno, però oggi ci sono alberi che non si potano da sette anni, ci sono strade molto pericolose, come il Piave dei Picciotti, che è una strada dove persistono tantissime scuole, frequentate da tantissime mamme la mattina e bambini, però attendiamo la potatura sul Piave dei Picciotti, e all'interno delle scuole, perché oggi ci sono scuole dove ci sono alberi talmente carichi di foglie che se un giorno di vento cade un ramo e può colpire un bambino, poi voglio vedere chi deve pagare questo danno. Un'attenzione particolare io la vorrei dare al mare, che poi è il mare di Palermo, che da tantissimi anni non è più fruibile. Lei sta facendo una battaglia su questo? Diciamo la costa sud, anche se a me questo nome costa sud non piace, però la chiamiamo oggi così, questo tratto di costa, questo tratto di città, perché ormai ci siamo resi conto che la rinascita della costa sud, dei bagni Petrucci, dei bagni Virzi, di Acqua dei Corsali, fino ad arrivare al Parco di Belograssi, può diventare un volano di sviluppo per la città, non soltanto per noi residenti della seconda circostruzione. Adesso si inizia a toccare un po' con mano questi famosi progetti del PNR, del collettore fognario che renderebbe balneabile il mare. Mi auguro a quanto prima questi possano essere… Mi auguro prima? Quando? Diciamo che c'è… In tanti si chiedono, quando potremmo fare il bagno oltre che al mondello? Diciamo che c'è gente che fa il bagno al di là che aspettano i progetti e lo fa da una vita, anche io sono stato accusato di mandare messaggi subliminali perché magari frequentavo la spiaggia di Romagnolo. Diciamo che entro l'anno si dovrebbero chiudere i progetti del PNR e a quanto mi risulta il comune su questo non è inadempiente, ma siamo nei perfetti tempi per rappresentare i progetti. Diciamo che, come dicevo poco fa, la rinascita di questo tratto di costa sembra toccarla con mano, anche il sindaco spesso ne parla e mette ai primi posti la rinascita della costa sud, di questa parte di Romagnolo, di questa parte di città. Noi siamo fiduciosi, sicuramente i tempi non è da qui a un anno e neanche da qui a due anni, però l'importante è iniziare questa famosa riqualificazione di questa parte di città. Passiamo a un tema un po' complicato da affrontare, ovvero quel famoso decentramento di cui tanto si è parlato, ci si è riempiti la bocca, mi consenta questo termine, durante la campagna elettorale, però ancora non si è visto niente. Diciamo che da vent'anni ad oggi, se guardiamo tutti i programmi elettorali di tutti i sindaci, da destra a sinistra a centro, nei primi due punti vediamo riportato sempre il decentramento. Cos'è il decentramento? È rendere autonome le circoscrizioni sia in termini finanziari che sia in termini di servizio. Perché ad oggi le circoscrizioni, ricordiamo, possono solo segnalare. Diamo pareri vincolanti non obbligatorie, facciamo i segnalatori realmente. Il decentramento darebbe poteri, come si suol dire, alle circoscrizioni rendendole come dei piccoli municipi, come dei piccoli comuni autonomi. Ma realmente ad oggi nessuna delibera anche in questa amministrazione è arrivata in Consiglio Comunale. Perché poi qual è il vero problema? Il problema è l'attuazione del decentramento è come se andasse in contrasto col Consiglio Comunale. Cioè il Consiglio Comunale, lo dico in maniera chiara, è come se loro, attuando il decentramento, un loro depotenziamento. Realmente, in maniera reale non è così. Perché cosa succede col decentramento? Vai a dare la possibilità a chi vive quotidianamente il territorio, a chi lo vive in maniera capillare, di risolvere i problemi. Ma noi attualmente, noi attualmente diciamo cosa vogliamo? Perlomeno essere incisivi nella programmazione delle partecipate. Dico perlomeno di attuare un decentramento non a 100%, ma magari a un 60%. Però tutto questo, mi dispiace dirlo, ahimè, va in contrasto col Consiglio Comunale. Perché quando oggi io vedo sui social del 70% dei consiglieri comunali che postano castonetto pieno, castonetto vuoto, strada sporca, strada pulita, loro si vogliono sostituire a consigliere di circoscrizione. E questo è il reale motivo che secondo me anche questa amministrazione sul decentramento fallirà, non verrà affatto. Ok, apprezzo il fatto che lei non abbia peli sulla lingua, nonostante lei sia scritto a Fratelli d'Italia che è praticamente… Chi non ha il coraggio di dire le cose come stanno, forse è meglio che si sta a casa e non fa politica. Cioè, Fratelli d'Italia che è la maggioranza al Consiglio Comunale. Io non sono un uomo che copre il sole con le mani, come si suol dire, ma… A proposito di amministrazione comunale, Presidente, perché lei è stato consigliere comunale nell'amministrazione Orlando. 2012. E adesso è presidente della seconda circoscrizione nell'amministrazione La Galla, quindi ha comunque dei termini di paragone meno buoni. Ho vissuto i timici in grande di Orlando. Nel complesso non possiamo dire che non ha fatto bene per la città, ma per la seconda circoscrizione non ho visto nulla di positivo, perché tutto quello che non va ce lo stiamo ritrovando adesso noi, negli ultimi dieci anni di Orlando. Su questa amministrazione è normale che a distanza di un anno nessuno si potrà immaginare che tutti i problemi possano essere risolti in un anno. Questa amministrazione ha risanato i conti della città, ha risolto i problemi dei cimiteri, due argomenti molto importanti per noi. In termini di circoscrizione ho notato una cosa, che inizialmente siamo partiti con un grande entusiasmo, con tanta buona volontà, cosa che ultimamente mi dà la sensazione che questo entusiasmo inizia un po' a scemare. Non voglio neanche pensarci che possano riemergere tutte le difficoltà e tutti i disservizi che la vecchia amministrazione aveva.